A me non mi è piaciuta questa conferenza stampa dove lui scarica le colpe sugli altri, si deve prendere la propria responsabilità. Io capisco che ci sta mettendo i soldi, capisco che sta facendo pure lui dei grossi sacrifici insieme agli spondi, però si deve prendere la propria responsabilità e deve tranquillizzare il popolo, perché il popolo bianco-verde non abbandona mai questa squadra. Le parole di Franco Iannuzzi, normalmente netto ma moderato, traducono il senso del discorso espresso dagli Ultras nel comunicato arrivato ieri sera. I tifosi hanno voluto commentare le parole pronunciate dal patrono in sala stampa, chiarendo senza mezzi termini la loro posizione. Innanzitutto si chiarisce che quel che non hanno digerito è ciò che definiscono uno scaricabarire su mister e direttore, comportamento e tranquillità della squadra. Un passaggio duro o quello successivo? Improvvisazione e mancanza di onestà intellettuale continuano ad essere alla base dell'operato della società. Se questi sono i presupposti, il presidente può farsi da parte e consegnare la squadra al sindaco. Gli Ultras chiedono al presidente anche di ammettere gli errori commessi. Se questa convinzione scrivono è frutto di promesse e rassicurazioni del DS, è giunto il momento che De Vito rassegni le dimissioni. Netti, decisi e di pancia sono così gli Ultras, prendere o lasciare. Loro è una certezza, l'Avellino invece non lo lasceranno mai. E vigilano e vigileranno più degli addetti ai lavori e più della proprietà stessa. Perché forse è vero che i reali proprietari dell'Avellino sono proprio loro e curano il tesoro con attenzione e lungimiranza.